arrivano tutte guardate la 1100 la mitica fiat 1100 il maggiolino la topolino eccole qui ma che belle la 500 le capotate questa non ho mai vista mamma mia mamma mia che rugiti che fanno i motori mamma mia che strombazzata più non posso le 500 le 500 ed eccola la sfilata di arrivo e quelle van di là ma quelle non vengono qua eccole qua tutte che fanno l'ingresso ingresso in grande stile devo dire guarda qui grazie a tutti grazie a tutti